Si stima che quasi 2 milioni di giovani dal 16 al 21 agosto del 2011 risponderanno all'invito di Benedetto XVI a partecipare alla giornata mondiale della gioventù che il prossimo anno si terrà a Madrid. Anche nella nostra diocesi è partita la macchina organizzativa, infatti dal 1 ottobre sono aperte le iscrizioni. La GMG non è solamente l'incontro col Papa ma anche il cammino che ci conduce a questo incontro, infatti sono già disponibili e si possono prenotare qui alla segreteria della pastorale giovanile due sussidi che accompagnano il cammino dei giovani, uno legato di più alla preghiera personale e legato all'anno liturgico e l'altro proprio come strumento per poter organizzare i cammini di gruppo in questo anno speciale della giornata mondiale della gioventù. Si può partecipare in modi diversi alla GMG e anche noi come diocesi ci siamo attivati per due proposte. La prima proposta che inizia il 10 agosto e tiene dentro il gemellaggio con una diocesi della Spagna che per noi sarà a Cordoba e l'altra proposta per chi ha meno tempo più breve che inizia il 15 agosto per terminare il 21 e sono solo le giornate di Madrid. Anche il nostro Vescovo ha scritto una lettera a tutti i sacerdoti, a tutti i giovani della nostra diocesi per partecipare come Chiesa Piacentina, uniti con lui in questo momento di forte esperienza ecclesiale.